Giovanni Trapattoni, mister Trapattoni, io la rivedo dopo sette anni. Buonasera innanzitutto, benvenuto a San Venanzo da parte degli abitanti di San Venanzo. Io la rivedo dopo sette anni, come stavo dicendo, ci incontrammo a Sesta Rilevante per una questione legata a una beneficenza. Si parlava di oncologia, cardiologia, era legato all'Istituto dei Tumori di Veronese. Qui invece per tutt'altra cosa, so che è il secondo anno che arriva per benedire, tra virgolette, la squadra del San Venanzo. Sì, diciamo che la benedizione lasciamola un po' a chi di dovere può farlo. Diciamo che fa piacere essere qui perché credo che partecipare anche a un evento di questa entità può dare anche solo qualche piccolo consiglio, parola, anche solo l'immagine a questi ragazzi che nella vita con impegno e con parte di sacrifici si può arrivare ovunque. Quindi mi auguro che proprio il messaggio sia questo. Lei testimonia proprio efficace, visto che è considerato, scusate il gioco di parole, tra i migliori allenatori del mondo oltre che in Italia. Ecco, io volevo con lei toccare un tasto importante. Abbiamo visto la Nazionale agli europei di calcio perdere i calci di rigori con la Germania. Oggi è proprio difficile, adesso c'è Giampiero Ventura che indubbiamente le conoscerà, fare l'allenatore perché bisogna pescare tra i pochi italiani che ci sono nei club. Sì, senza dubbio direi che il compito dell'allenatore della Nazionale è fra i più difficili perché è una selezione quindi non hai i giocatori quotidianamente alla tua disposizione e quindi anche nei suggerimenti oppure nel miglioramento di certi aspetti diventa difficile. Quindi in otto giorni mentre prepari la partita durante la preparazione della gara della Nazionale non riesci a toccare tutti i tasti o magari a suggerire tutto quello che si deve fare. E quindi diciamo che sono compiti più difficili, molto diversi dall'allenatore della squadra e direi che comunque la nostra squadra si sa sempre comportata bene. Ecco, se lei fosse stata in panchina al posto di Antonio Conte quando Pellè ha fatto quella simulata taranta prima di tirare il rigore peraltro in una porta difesa da uno dei migliori portieri del mondo come il portiere della Germania. Come avrebbe reagito a fine partita? Beh, a fine partita negli spogliatoi avrei tirato un po' le orecchie insomma perché purtroppo non si beffeggia mai e non si scherza mai sotto questo aspetto nessun avversario. insomma, io ho giocato, è sempre meglio aver rispetto di tutti e devo dire che spero che sia stato un esempio e che non succedano più queste cose. Beh, io me lo auguro veramente. Ecco, l'ultima cosa perché questa è una curiosità che pochi conoscono di Giovanni Trappattoni è che quando lei iniziò già l'avventura con i Green Boys non a caso la maglietta verde per ricordarle l'Irlanda, la nazionale irlandese che ha allenato insieme a Marco Tardelli fino al 2013 ebbe anche un'esperienza in Vaticano. Lei allenò il Clericus Top che era una nazionale fatta di seminaristi e aspiranti prelati ancora sacerdoti, ma erano bravi. Come è stato chiamato dal Vaticano Trappattoni? Beh, diciamo che la chiamata è stata semplice perché io ho avuto una sorella suora quindi conoscevano già un po' le mie radici così cattoliche però insomma è stato molto divertente perché anche questi prossimi padri insomma è stata una bellissima avventura anche proprio di cuore e di rappresentanza. Ha rischiato di farli qualificare magari per gli europei successivi che di lì a poco si sarebbero svolti. Grazie mister, oggi lei è un bravissimo commentatore devo dire efficacissimo e so che piace anche alle donne che cominciano a guardare le signore di mezza età la domenica sportiva. Come si discolpa? Se c'è da discolparsi? Beh, devo dire che sono talmente un po' sai che le mie frasi così spontanee da stronzo o da altre sono quelle che magari... ecco, e devo dire che io sono così naturale quindi né mi invento né penso sono così, sono Gianni Trapattoni e va bene così. Grazie. Ecco, tu sul Perugia Calcio qui siamo nella zona di Perugia ecco il Perugia Calcio io me lo ricordo quando era famosissimo quando vi dava filo da torcere all'epoca di Castagnere ecco come lo vede perché sicuramente reanalizzerà anche la situazione attuale delle scuole di calcio essendo un tecnico con la Juventus c'è uno Juventino là dietro che ancora si ricorda il gol di Felix Magat alla finale contro l'Hamburgo il 25 maggio dell'83 il Perugia che voto le dà? Perugia attuale? Beh, Perugia attuale non ho modo e la possibilità per la verità di poterlo seguire per dare un giudizio però direi che come città per ciò che è stato il grande Perugia di Ilario Castagnere credo che sia stata una delle squadre non provinciali perché Perugia è una gran città anche di cultura che veramente ha fatto dell'ottimo calcio grazie anche a Ilario e l'abilità nel costruire questa squadra poi si sa che diventa difficile per i presidenti mantenere sempre ad altissimo livello e parlo di Serie A visti i costi che i giocatori attuali costano e che quindi non possono sostenere i bilanci però devo dire che ho sempre un bellissimo ricordo di Perugia indubbiamente grazie Trap ci rivediamo tra sette anni grazie con molto piacere scendiamo sempre più Sestri Levante Umbria ci vedremo nelle isole Eolie grazie grazie